Sarebbe bello poter andare ad utilizzare Whatsapp su due dispositivi contemporaneamente e magari, qualora ovviamente uno potrebbe essere il tuo smartphone, indipendentemente se è iOS oppure Android, e quello che magari è il tuo tablet Android, magari perché lo utilizzi a casa oppure in studio o in qualsiasi altra maniera. E quindi oggi vediamo com'è semplice poter andare a sincronizzare questi due dispositivi con dei semplicissimi passaggi e poter così utilizzare contemporaneamente Whatsapp sia su un dispositivo che sull'altro. Per prima cosa andiamo a scaricare dal nostro Play Store quello che ovviamente è il nostro Whatsapp, quindi ci dirigiamo qui e andiamo a scaricare quindi quello che è Whatsapp, in questo caso ovviamente io già lo avevo scaricato, e poi non ci passerà altro che aprirlo. Una volta aperto ci dirà di poter andare ad accettare e vedi che sono ovviamente le condizioni. In questa schermata qui quindi ci aprirà quello che è il nostro QR Code, quindi non ci basterà altro che prendere il nostro smartphone. Una volta fatto questo ci dirigiamo sul nostro Whatsapp, sul nostro account principale, andiamo nella voce impostazioni e ci dirigiamo nella voce dispositivi collegati. Una volta fatto questo andiamo a cliccare su collega dispositivo e andiamo ad inquadrare quindi quello che è il QR Code del nostro tablet. Vedete che quindi inizierà il caricamento delle chat in corso. In questo momento impiegherà un po' di tempo e una volta ovviamente fatto tutto ci dirà e ci riuscirà quindi sopra il nostro tablet il nostro Whatsapp. E quindi possiamo tenerlo perennemente collegato andando poi a consentire tutte quante quelle che sono le azioni, tutti quanti quelli che sono ovviamente le nostre chat. E quindi contemporaneamente le abbiamo sia sul nostro smartphone che poi sul nostro tablet. Come hai potuto vedere è abbastanza semplice poter andare a sincronizzare il tutto e poter essere così in grado di poter utilizzare sui due dispositivi quello che è Whatsapp. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti fa piacere iscriviti al canale, metti mi piace con la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!